Buon viaggio papà, continua a pensare e camminare veloce. Le parole di una delle figlie di Oliviero Bea per salutare il papà morto oggi all'età di 68 anni, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico, autore teatrale e spesso una voce contro, un professionista che naturalmente conosceva bene il peso delle parole e proprio per questo sul suo blog morettianamente intitolato Le parole sono importanti passava ai raggi X e quelle usate nei servizi dei telegiornali fino a ieri. Nelle ultime settimane, racconta ancora la figlia, mi è capitato di essere le mani di papà che hanno trasferito in parole scritte su un monitor quello che lui velocemente mi dettava. Lui ripeteva, la libertà è un lusso di pochi, un lusso che lui si è sempre voluto prendere senza paura, parole le sue spesso scomode come la sua inchiesta nel 1984 sui mondiali dell'82 nella quale sosteneva che la partita tra Italia e Camerun fosse stata combinata. Tagliente come Zorro si chiamava proprio così uno dei suoi più grandi successi Radio Zorro su Radio 1 dal 92. Gli inizi nello sport a Paese Sera, poi Repubblica, nell'87 l'approdo in tv alla conduzione di Vapensiero con Andrea Barbato e poi l'unità tra il 2005 e il 2008. Nel 2009 comincia la sua avventura con il Fatto Quotidiano di cui è confondatore e poi libri, testi per il teatro. Tra le sue mille attività collabora per un periodo anche con il nostro giornale con una rubrica di approfondimento sportivo in onda la domenica sera. Papà, racconta ancora la figlia, era orgoglioso di essere un giornalista. Il compito di un giornalista è raccontare la verità perché è un diritto di chi legge, sapere i fatti, per poter poi elaborare una propria opinione.